Siamo gli FX Mordex Abbiamo aperto un sacco in descrizione ragazzuoli Link in descrizione Ragazzuoli cari Allora Oggi si gioca Pro Stars Siete pronti? Allora Ci usiamo il peggio Usiamo il peggio ragazzuoli Scusate i miei membri del canale Oggi non ci sono Oggi ci sono io Il secondo canale è in descrizione Oggi Se uso la Suprema Il video finisce Quindi ragazzuoli la Suprema Non dobbiamo usarla Se no il video finisce Ok ragazzuoli Siamo allenati e pronti Let's go Ok ragazzuoli Ok ragazzuoli Ok ragazzuoli Siamo arrivati Ok ragazzuoli Ok ragazzuoli Ok ragazzuoli ragazzuoli la situazione complicata ragazzuoli è difficile usare la super ragazzuoli questa challenge è difficile managgia ragazzuoli prima partita persa ci ne avevano altre due ok ragazzuoli andiamoci per di forza andiamo altre due partite se comunque anche se abbiamo vinto la challenge la stiamo rispettando non è quello ok ragazzuoli ricordiamoci si gioca ragazzuoli attenti ragazzuoli attenti mi ha ucciso ragazzuoli grandi 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 player ragazzuoli si pareggia adesso si pareggia adesso ragazzuoli pareggiamo usiamo il potere degli effetti mollet tranquilli ragazzuoli non lo diremo agli altri ma agli altri membri del canale ragazzuoli 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 beh ragazzuoli abbiamo vinto la challenge non abbiamo usato la suprema quindi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao